Avevo sussito a un incontro nel Biennale di Democrazia di qualche anno fa con un astronauta che parlava di qual era l'impatto di vedere la Terra dallo spazio e anche da noi profani, di chi vedeva le foto della Terra dall'alto per la prima volta quanto veramente fosse impattante vederla tutta insieme in un cerchio e effettivamente come rappresentazione è una roba che... Alcuni addirittura sostengono che non ci sarebbe la globalizzazione se non ci fosse questa possibilità Cioè è talmente potente quello che stai dicendo adesso, cioè vederla la sfera Sai, vedere è un atto violento, cioè vedere è un atto violento Quando io ti guardo, più che vedere è quando ti guardo e posso vedere Io ti sto possedendo, perché in qualche modo vedo tutti i tuoi dettagli, posso descriverti, posso capirti E allora da questo discende la possibilità di trattare la Terra come sfera Questa è Sloterdike per esempio Quindi come qualcosa che può essere tutto sommato manipolata Questa è solucionato Grazie a tutti.